ciao benvenuti a questo video in cui andiamo a introdurre la luna nuova in ariete del 21 di marzo 2022 a 0 gradi 48 49 minuti nel segno dell'ariete prima di iniziare a entrare in merito a questo novilunio importante e anche rafforzato dall'equinozio del 20 marzo viene a farsi presente un angelo all'ora delle 9 09 del mattino sei al angelo ventottesimo ventottesimo soffio quarto raggio del coro angelico degli angeli dominazioni nel quale amministra le energie di marte che in questo momento si trova in gemelli e che anche rispetto a questa luna una posizione piuttosto resistente l'elemento di marte del fuoco naturalmente questo angelo a un domicilio zodiacale tra il quindicesimo il ventesimo grado del segno del leone ed è una potenza solare che porta con se il dono elargisce l'intensità di vita insieme alla longevità ed è il suo nome il suo nome significa dio che guarisce o che risana i malati la meditazione associata al suo nome si chiama anima gemella il nome seia che è composto dalle lettere shin aleph e nella sua radice risveglia nel mio essere l'energia dell'anima gemella ora io attraggo l'altra metà della mia anima tutte le mie relazioni attuali sono profondamente imbevute e arricchite dell'energia delle affinità dell'anima questo viene fatto presente contestualmente anche alla luna nuova in ariete l'arcangelo naturalmente che governa questo angelo ventottesimo è l'arcangelo raffaele gli angeli dominazioni sono guidati dal benevolo esediel della sefira quarta cesed o esed e il segno del leone naturalmente l'arcangelo raffaele e la sesta sefira quindi l'idea della grazia della misericordia anche rispetto alle energie di marte in questo qui ed ora del 9 lunio l'altro aspetto che viene portato presente dall'idea dell'ariete è la fase iniziatoria e quindi è il momento l'energia iniziatoria che questo momento ha in sé e a questo rispetto come ariete come alfa anche e come aleph è portato al risonanza nel campo della coscienza collettiva l'idea della costante di struttura fine già da un po di tempo che è conosciuta proprio come alfa in fisica rispetto a quello che viene definito fine splitting ovvero una sottile scissione sottile separazione in frequenza dell'umanità in termini di coscienza e per quanto riguarda la fisica nei termini anche di luce ed ombra come binario lo spazio che le separa che si che separa diciamo le rotaie l'una dall'altra e questo risponde alla costante di struttura fine che ha un rapporto molto preciso di 1 su 137 numeri che anche questi hanno un'importanza una rilevanza da un punto di vista biblico anche simbolico di estrema importanza numeri che sono relativi alle codificazioni della bibbia rispetto alle profezie messianiche anche quindi al principio cristico come principio e come principio di risveglio e al cristo come messia e come futuro e come presente diciamo futuro presente e naturalmente alfa controlla la forza dei legami chimici qui si parla per quanto riguarda l'angelo per esempio che abbiamo come dire messo in evidenza per un una per la sincronicità oraria della registrazione ci porta l'idea dell'anima gemella nella sua meditazione quindi la formula del complementare che sostituisce quella dell'opposto e alfa appunto controlla anche la forza dei legami chimici e come vediamo anche la luce controlla la nostra percezione della luce il modo in cui la vediamo ed è oltretutto controlla come rapporto quasi tutto ciò che è al mondo e quindi controlla anche la fusione nelle stelle dalla quale vengono creati tutti gli elementi chimici che permettono tutto il resto dei sistemi e naturalmente sappiamo che anche noi abbiamo un cuore di stella un nucleo di ferro nel centro delle nostre delle nostre molecole come l'emoglobina alfa regola anche i livelli energetici di un atomo e pensiamo a questo atomo e a noi stessi anche come atomi nell'universo pensiamo all'uomo come uomo cosmico come adam e come atomo formato da elettroni caricati negativamente da un nucleo positivo così come fanno le lune intorno ai pianeti e così come fanno i pianeti intorno al sole quando gli elettroni diciamo saltano eccitati dai fotoni da questa luce che ricevono avviene questo salto quantico salto qualitativo anche dell'uomo della sua coscienza tra questi livelli di energia che assorbono ed emettono e ricevono e trasmettono particolari frequenze luce e suono anche e noi come orbitali elettronici intorno anche come i nostri orbitali elettronici intorno ai chakras queste frequenze che vengono ricevute trasmesse si presentano come linee chiare e linee scure linee scure per l'assorbimento il nero che sappiamo che assorbe le linee chiare per l'emissione il bianco che irradia e che riflette in uno spettro diventano visibili in un sistema anche di misura e quando diciamo quando sono coinvolti molti livelli di energia come nello spettro di una stella chimicamente mista come può essere quello della coscienza collettiva e dell'inconscio collettivo il risultato è anche in questo caso una struttura pettine ma diremmo che nel caso della coscienza e dell'inconscio è una struttura da alveare interessante la parola comb in inglese che significa proprio è il termine tecnico con cui si indica questa struttura generata da questa o da questa alfa la costante più misteriosa dell'universo e nel gioco dimensionale questo comb diventa honeycomb che è invece il favo del miele quindi le strutture diventano come l'alveare e come il grafene anche e per chi non avesse visto diciamo i videos precedenti viene appunto presentata l'idea che la coscienza collettiva e le coscienze individuali rispondano in senso quantico alle stesse leggi fisiche universali che l'inconscio comunque trascenda e abbia il potenziale di trascendere queste leggi e in primis come dire quindi di di trascendere le limitazioni date dal contesto fisico come l'inconscio sia il contesto metafisico e e in primis naturalmente appunto tra queste leggi la costante di struttura fine alfa e la anche l'idea della propulsione dinamica come salto elettronico tra livelli di energia e come salto quantico con la partecipazione attiva della coscienza che in qualche modo direzione magnetizzando il salto impostando la frequenza e inducendo questo salto per via magnetica sulla frequenza desiderata ma questo deve avvenire permettendo e alle leggi universali di lavorare con noi e e noi con loro nel rispetto di esse e quello che è l'elemento invisibile elemento sconosciuto alla nostra volontà inaspettato per la nostra volontà la coscienza divina come divino logos che conosce i rapporti e le proporzioni e che appartiene a questo ambito del mistero e questi rapporti devono essere seguiti e mantenuti vivi nella coscienza e la costante alfa per la fisica è un mistero perché in effetti è perché in effetti metafisica e viene suggerito che anche appunto il graffene in qualche modo possa aiutarci a risolvere questo mistero della costante di struttura fine viene suggerito dal campo di energia collettiva forse diciamo chissà nelle sue applicazioni nei computers quantistici ma forse la risposta fisica è proprio sotto i nostri occhi come si dice e non la vediamo perché appunto è anche il modo in cui vediamo la luce regolato da questa costante e nella citazione di Feynman diciamo anche che risuona e che ritiene questa costante uscita dalla matita di dio e noi e rende noi usciti fuori dalla matita di dio e quindi questa forse la risposta sotto i nostri occhi l'idea della matita della grafite del grafene del carbonio come in questo momento ci sono altissimi livelli di carbonio sul pianeta il file e questo diciamo la frequenza miracolo viene portata in evidenza nel frattempo poi magari ecco vi lascio le carte ad illustrare il fine splitting dell'umanità e anche questo doppio novilugno miracolo e prosperità e anche questo doppio doppio novilugno in ariete è anche il motto della casa dell'ariete è io sono io sono colui che sono come si dice in esodo 3 14 3 3 3 3 3 3 abbiamo come dire 5 3 che ci portano a 15 e 15 può e 15 fa 6 come tiferet la sesta sefira nostro cuore nostra anima ma anche come 60 della lettera samec valore della lettera in ebraico lettera legata alla chiusura di cicli e l'inizio di nuovi cicli su un livello di coscienza più elevato legato alla chiave gene sessantesima e come si dice nell'iching per una sorta di sincronicità con quello che viene suggerito dai simboli io sono colui che sono è il sentiero dell'equilibrio perché è anche io sono e io sono ma è anche il tanto quanto un sentiero di equilibrio perché tanto quanto si sale diciamo quanto si sale tanto si scende e l'elevazione l'altezza è proporzionale anche alla profondità in questo senso però il mare ecco è delle onde e queste onde sono fatte così ecco quindi sì come in cielo così in terra e anche tanto in cielo quanto in terra questa occorre come dire mantenersi aderenti ad alfa come unità di misura di equilibrio ma è anche ago della bilancia ed è il sentiero tra le rotaie di un binario ed è anche il piolo della scala del nostro dna a livello di coscienza collettiva questo questa sottile divisione che si espande sottile divisione in frequenza il cui sentiero centrale risponde alla legge dell'albero della vita e della costante anche di fine di struttura fine alfa perché è allineato comunque alle leggi naturali e che nella ruota zodiacale è la riete e l'equinozio questa questo allontanarsi nel tempo espandendo lo spazio e nell'alfabeto e aleph il il principio due grandi range di frequenza tra luce e ombra e la coscienza dei mondi creati nelle celle dell'alveare nei buchi della rete che corrispondono diciamo a questo pettine dato dalla scissione in frequenza che risponde ad alfa e se dice max born e qui cito un fisico che se alfa fosse più grande di quanto non sia in realtà non saremmo in grado di distinguere la materia dal vuoto dal lettere dal nulla che il nostro compito di stricare le leggi naturali sarebbe il nostro compito di districare le leggi naturali sarebbe completamente quasi impossibile e che quest'alfa abbia proprio questo valore non è certamente un caso ma è una legge di natura ed è chiaro che la spiegazione di questo numero deve essere il problema centrale della filosofia naturale dice appunto max born e per non entrare appunto nel merito della numerologia e quindi dei numeri 37 73 dal punto di vista gematrico degli studi sui codici numerici contenuti nella bibbia le nuove conferme che arrivano dai rotoli del mar morto rispetto anche al pentagramma cristico su cui qui ed ora l'idea del vuoto che senza questa costante non percepiamo la materia dal vuoto in questo qui ed ora è l'uomo cosmico vitruviano come dire che viene portato in evidenza dalla biogeometria e il simbolo naturalmente della mercaba e dell'esagono che matematicamente geometricamente e gematricamente sono legati ai numeri 37 e 73 l'angelo in questo caso gli angeli sono l'angelo agnel che è l'angelo delle 12 e 12 e naturalmente gli angeli sono 72 quindi l'angelo 73 non c'è ma c'è rispetto al 73esimo nome divino invece l'idea di un mistero che risponde anche a questo a questa unione di alfa anche in senso fisico e di omega e la separazione diciamo dalla della della luce dalle tenebre è governata fisicamente da alfa ed è intrinseca alla storia della creazione ed è il soggetto del quarto verso della bibbia e questo verso ha sicuramente implicazioni molto molto profonde e non solo poi ha un valore gematrico il verso in sé che quindi diciamo è dato dal singolo valore numerico di ogni parola del verso nella bibbia ebraica di 1776 che l'anno diciamo in cui plutone si era trovato in acquario corrisponde anche a questa risonanza degli stati uniti della loro storia della loro carta natale e questo verso è il verso quarto del di genesi 1 1 4 il rapporto il verso della bibbia che descrive questa costante di struttura fine che ha un valore gematrico di 1776 che è dato dal valore gematrico del verso e dio vide la luce che era cosa buona e dio divise separò la luce dalle tenebre e naturalmente 1776 e anche 1713 ed è anche appunto ritorna numerologicamente il 137 come numeri di campo questa risonanza dei numeri 13 e 17 del 31 del 71 del 4 dell'otto e quindi del 48 anche l'idea che succede il 48 in questo senso anche e l'84 naturalmente la massa dei protoni e dei neutroni che è 1840 volte quella dell'elettrone è un'altra è un altro numero che appartiene diciamo il sistema delle leggi viene sempre fatto presente a livello della nostra coscienza e della nostra energia e dell'organizzazione della nostra energia di osservare la fisica delle microparticelle e l'orbita più interna in questo senso è quella energia più bassa e quindi è l'orbita fondamentale del sistema con il passaggio del nostro pianeta della terra nella nella cintura fotonica stiamo ricevendo molti più fotoni e per quelle che sono diciamo le tempeste solare il clima spazio il clima diciamo nel sistema solare rispetto alle tempeste coronali alle eiezioni coronali di e quindi ai brillamenti solari di classe x e di classe m che sono le classi più elevate alla loro risonanza diretta nel centro nel nucleo della terra e quindi all'attività sismica correlata con vulcanica correlata e di faglie oceaniche connesse ecco stiamo ricevendo molta più informazione fotonica molta più luce e quindi le orbite gli elettroni e quello che riguarda appunto anche il campo elettronico della della coscienza è estremamente eccitato e quindi c'è un un'eccitazione elettronica un saltare da un orbitale all'altro effettuando continue accelerate transizioni di coscienza molto più alta frequenza potremmo dire è così si riceve radiazione luminosa in questo modo stiamo ricevendo molta più radiazione luminosa occorre però come dire entrare in quella che è la fase del processo dall'altra parte complementare gemella che è il processo di tra virgolette eh diseccitazione dell'atomo e quindi dei nostri orbitali elettronici e quindi della nostra degli orbitali eh e del nostro sistema potremmo dire energetico a livello più macroscopico e a livello di risposte energetiche nell'immediata eh rilevazione fisica e del visibile sotto i nostri occhi e questo processo di diseccitazione dell'atomo avviene nella transizione da un'orbita esterna eccitata e quindi come dalla superficie ondosa del mare allo stato fondamentale all'orbita più interna verso i fondali in questo senso anche di introspezione e di rientro in se stessi l'energia dell'atomo diminuisce quindi a questo punto viene ceduta un fotone che si genera nella transizione questa transizione permette di irradiare di emettere radiazione quindi sia partecipare attivamente ed è nel suo complesso questo processo di in e out e di prendi e lascia e rilascia di assorbi e irradia è come un respiro come la classica fase di contrazione e dilatazione ma è a livello universale ed è il ritmo del battito dell'universo è la pulsazione del suo cuore ed è come dire il il suo respiro che ci abbraccia che è come un gigante che dorme pacifico che ci contiene e come se l'universo fosse la nostra balena al fa anche il nostro pianoforte e il potere rivelatore del pensiero si manifesta quando il flusso del pensiero è allineato al logos e previa naturalmente magnetizzazione via frequenza emotiva la risposta emotiva a tali pensieri la nostra visione elevare la nostra visione rilasciare la vecchia pelle rilasciare una vecchie visioni che sono orizzontalizzate la ricezione sta alla domanda come la trasmissione sta alla risposta la ricezione è la domanda la trasmissione è la risposta di nuovo si suggerisce l'idea dei pianeti e che ruotano intorno al sole come gli elettroni intorno al nucleo delle lune intorno ai pianeti anche che generano il campo delle onde magnetiche anche galassie intorno ai buchi neri in fondo ai quali il sole dei nuovi mondi o dall'altra parte l'infinito precipizio dell'ego sullo stesso asse l'idea della benedizione della consacrazione e l'idea dell'ego come caduta del serpente che parla perché nella genesi a parlare sono dio e il serpente in questo in questi primi passaggi mangiare del frutto dell'albero proibito per essere pari a dio la conoscenza del bene del male ego il serpente parlante come nelle fiabe questo ministro che conduce un re troppo pigro un re troppo pigro per essere re o troppo sciocco che si fa guidare condurre manipolare da un cattivo ministro che gli dà autorità e potere nel nel ter nel genesi capitolo 3 e poi nella genesi 6 che dio si pente perché vede la malvagità dell'uomo e veniamo tra virgolette salvati da no è che poi è quello dell'arca perché trova grazia ai suoi occhi perché cammina con dio così come enoc camminava con dio questa energia del principio della genesi dei patriarchi è portata all'evidenza dal campo di risonanza della luna nuova in ariete e consideriamo anche che in ariete ci sono sei pianeti nella casa del guerriero inclusi anche eris l'aveva anche conosciuta come dea della discordia naturalmente dea diciamo degli esclusi anche degli emarginati in questo senso della sua essere stata esclusa dalle nozze che scatena la sua rabbia non invitata diciamo e scatena la sua rabbia e quindi anche poi tirone guaritore ferito che e centauro e guaritore ferito questi sei pianeti in ariete perché poi c'è anche giove con mercurio eris chirone il sole e la luna congiunti portano con sé l'idea di un grande fuoco iniziatorio dall'altra parte sono quadrati a marte che è nella posizione conosciuta come fuori dai limiti ovvero è a briglia sciolta come si dice in gemelli per cui vediamo in questa sottile scissione in frequenza anche da un lato gli estremi gli eccessi di fuoco l'aggressività l'impulsività dall'altro vediamo il coraggio l'autonomia il potere la motivazione la fede si la luce nuovi grandi inizi nella nostra vita marte in gemelli nel segno governato da mercurio segno che governa i nostri veicoli e il veicolo come mercavo il veicolo anche come mezzo di luce mercurio che si occupa della conduzione ermetica e quindi via canalizzazione via ricezione e nella giusta gestione appunto anche dei rapporti come detto atomici di ricezione trasmissione vedremo luna nuova e in ariete quindi sole luna con quasi congiunti a plutone una congiunzione detta fuori segno perché plutone si trova negli ultimi gradi dei pesci ma è molto scusatemi nettuno quasi congiunti a nettuno che si trova negli ultimi gradi del segno dei pesci ed è quasi appunto prossimo all'ariete è sul limite perché la luna nuova è a zero gradi del segno dell'ariete c'è l'idea di una potenziale confusione perché un sacco di informazione ci raggiunge veniamo raggiunti da tanta luce da tanta informazione e questo è molto visibile proiettato sul palco mondiale sotto i nostri occhi sull'asse del mondo e con questo una fresca energia iniziatoria che ci chiede di essere luce perché siamo sul tra virgolette precipizio in questo caso in un nuovo episodio della storia dell'umanità stiamo per entrare in un nuovo episodio della storia dell'umanità e abbiamo lo stampo in mano ma annui dio della creazione nella cosmologia tolkeniano al primo tolkeniana al primo grado della riete la matrix insieme non anche all'idea di poter plasmare l'energia la luna nuova che è semi quadrata urano ci invita a vedere attraverso il velo dell'illusione semi quadrato si parla quando si parla di semi quadrati si parla di questo aspetto dei tredici e dici e dei dici e sette gradi della posizione topografica di ogni pianeta tra i tredici e dici e sette gradi faccio notare eh di un di un segno fisso che è di praticamente diventa quadrato a un segno cardinale ma lo faccio notare solo e unicamente per le ricorrenze numeriche del tredici e del dici e sette quindi anche del quattro e dell'otto come dicevamo è una onda enorme di di risveglio qui in queste carte comunque notavo adesso mi soffermo un attimo il tredici e il quarantatré il quarantatré altro numero che riconduce naturalmente a un sette ma che numero fondamentale nei codici biblici della e nel codice della creazione basti pensare che la gematria di io sono colui che sono che appunto esodo 3 14 3 14 che gematria di metatron è comunque 5 435 43 anche orarie in ogni caso il 13 il 43 il 7 e l'uno che fa 8 quindi 48 il 47 il 47 il 37 che si ripetono c'è l'amplificazione del bisogno del nutrimento spirituale nell'uomo nella sua coscienza la verità in di ma in misura direttamente proporzionale al venire alla luce della verità che veramente al di là di ogni retorica e banalità l'amore la risposta perché purtroppo c'è un abuso di coscienza tra virgolette un abuso della parola che svuota di significato e di frequenza occorre ricostituire il giusto spettro di frequenza attraverso le parole il riconoscimento del loro contenuto al di là della forma e del suono e la compassione in questo caso viene portata sul percorso dall'elemento nettoniano che ci permette di muoverci su questo cammino oltre la separazione la divisione quindi anche oltre le leggi fisiche ci permette di uscire dalla ruota del criceto di queste leggi di trascenderle marte quadrato a nettuno porta in sé anche l'idea delle guerre che si fanno sul mare del cattivo giudizio dell'aggressione delle guerre illusorie delle lotte contro i mulini a vento plutone in acquario e sedna che si sposta in gemelli in giugno accentuano l'elemento chiave della profondità e del rilascio e del lasciare andare vecchie strutture vecchi paradigmi non funzionali alla propria fede al proprio credo e alla propria volontà di ricongiungersi con la natura più autentica una profonda trasformazione una trasformazione che avviene nei fondali in tutti i sensi di questo di questa parola e anche quindi ovviamente in relazione al nostro pianeta gaia e il piano e l'equinozio che è legato diciamo alla consorte anche cosmologica tolkeniana di manui nei miti della creazione che è sul centro galattico questa energia che è plasmabile che è la creazione di una matrice perché nuova o rinnovata con coscienza la smare la coscienza per creare l'esperienza è il trionfo della luce sulle tenebre plutone sta iniziando un quadrato anche con l'asse nodale ci viene chiesto di essere radicati di essere luce e di radicare la luce metterla a terra concretizzarla attraverso la creatività ma anche dandosi le giuste pause ricevere trasmettere con i giusti ritmi le giuste tempistiche c'è una profonda trasformazione anche a livello sociale con plutone che entra in acquario l'idea di una trasformazione della società in senso di maggiore equità e di giustizia di ridurre i divari sociali le separazioni causate dal denaro l'illusione della separazione che alfa in sé non contraddice di me essendo priva di dimensione e questo altro paradosso e il denaro come arma è surrogato del potere questa altra illusione la società che eleva la sua coscienza prima che plutone naturalmente torni poi al ventinovesimo grado del capricorno per continuare a demolire il vecchio ordine sociale anche negli ambiti del successo nella carriera dei governi e nell'ambito dei governi e nella nella fine anche di quelle che sono le catene di illusione create dal governo delle grandi banche la trasformazione dei mercati finanziari in concomitanza come detto con tempeste solari di classe x ed m e quindi incremento delle attività del nucleo della terra e dell'attività sismica e delle faglie e nuove anche frontiere galattiche che si aprono a noi dal punto di vista scientifico in maniera tempistica in perfetto tempismo anche e in campo astronomico anche viaggiare tra le dimensioni l'idea del viaggio nel tempo e dei viaggi astrali che cominciano a trovare una loro chiave di volta anche da un punto di vista di riconoscimento nei termini della scienza della della delle possibilità da un punto di vista anche quantico il muoversi nelle nuove direzioni comunque suggerite da questa ricezione della luce anche viene sicuramente aperto insieme alle nuove frontiere galattiche e soprattutto vengono aperte le frontiere oltre la nostra galassia vengono aperti rapporti con le informazioni che provengono da fuori del campo di visibilità e dell'universo visibile e del conosciuto come tale e quindi pertinenti all'ambito dell'invisibile dell'inaspettato dello sconosciuto del mistero come in cielo così nel campo della coscienza come in cielo e nello spazio così nel campo quantico della coscienza e nel tempo della nostra coscienza e della nostra esperienza e accelerazione comunque di scienza e tecnologia anche in questo senso di energia plutonica trasformativa in acquario che porta rinascita e rigenerazione e che porta rivelazione di corruzione di bugie anche nell'ambito di scienza e tecnologia ambito le bugie le menzogne scusatemi della materia e le leggi anche comunque in questo senso del tempo della gravità vengono trascese i limiti vengono trascesi i limiti fisici attraverso il lavoro che facciamo focalizzando la nostra coscienza sulla sulla rivelazione sulla catarsi dell'ombra e del vuoto anche come elemento ritorno un attimo a riordinare le carte le prime uscite la volontà e questo sia fatta la tua volontà in questo senso risponde ad alfa rispetto all'inaspettato quello che fuori dal nostro controllo e dal nostro campo di visibilità quello che pertiene al vuoto quello dove alfa in qualche modo cessa focalizzare il vuoto e anche focalizzare la differenza poter cogliere i rapporti sottili tra vuoto e pieno è superamento di limiti superamento delle paure nutrire e quindi nutrire prendere atto del vuoto prendere atto di questo vuoto non negare il vuoto e quindi nutrirlo questo è il percorso così viene suggerito in questo senso rilasciare la vecchia pelle e elevare la nostra visione la nostra prospettiva si la luce e radica la luce sai radicato e muoviti in una nuova direzione è un salto quantico evoluzionario che occorre usare per creare la nostra esperienza così l'umanità attraverso la coscienza collettiva sta creando la sua esperienza e questi salti quantici comunque possiamo avere anche sentirli sul di energia di frequenza li possiamo sentire sul piano fisico anche no nei disturbi del sonno nel in una sorta di frenesia o qualsiasi diciamo no potenziale manifestazione sintomatica ma in ogni caso la nuova le nuove direzioni sono direzioni che portano a un allineamento di inconscio e di coscienza collettiva l'esperienza umana e quindi insomma che non questo divario non si che sia come dire colmato che l'esperienza che venga restituito a una non dimensionalità che l'esperienza umana è e anche quello che sa comporta è parte di questo equilibrio e si snoda lungo questo asse di conscio e inconscio abbracciare l'energia della pace che come dire è l'energia vedere da un'altra da un'altra prospettiva e da una più elevata prospettiva ci permette di abbracciare questa energia della pace che porta con sé conduce induce l'allineamento l'umanità è il sogno di dio l'esperienza umana il sogno dell'umanità la vita eterna il sogno dell'uomo veniamo in come dire invitati ad assistere ai nostri sogni a parteciparvi attivamente con la coscienza e anche ad assistere i nostri sogni a supportarli a coltivarli nel campo della coscienza quindi assistere ai nostri sogni nel campo dell'inconscio anche e coltivarli nel campo della coscienza tutti quindi appunto i sogni inclusa l'attività psichica che si svolge durante il sonno durante l'ombra durante il vuoto durante la notte in una sorta di associazioni metaforiche a catena e quindi anche come dire vivere il sogno da dentro la coscienza il sogno come esperienza il sogno cosciente della creatura che schiude la creazione alla vita e questa sottile divisione alfa che viene creata dalla separazione di luce e ombra si rivela in qualche modo un'unione e quindi la separazione si rivela illusione o proiezione perché questa è è il principio senza dimensione che fa la differenza e fa anche l'unione ed ecco perché alfa e anche omega è la costante porta della creazione e della della magneto ricezione è immersa nel senzatempo in sinergia di plesso solare chakra del cuore nel nel senzatempo senza spazio e senza dimensione andiamo a vedere che cosa viene suggerito da questi chakras il 3 il 4 il 5 in questo caso il palindromo 4 1 4 il 7 il 5 ci portano un 12 e quindi a un 3 la frequenza del plesso solare il giallo come colore l'idea della fisica quantistica cromodinamica viene portata sicuramente all'attenzione del campo di coscienza collettivo rispetto anche alla coscienza appunto e ai suoi principi alla sua funzionalità al di là del sua funzione prettamente neurofisiologica al di là e trascendendo addirittura lo stesso campo neurocardiologico l'energia di coscienza inconscio come principio grezzo principio puro il senso del sé del nostro potere personale della nostra forza di volontà così come la conoscenza di chi siamo e di che di quale e di che cosa in che modo vogliamo contribuire al tutto l'idea del servizio del potere che questo ha in sé implicito e la frequenza del chakra del cuore il verde che supporta la nostra capacità di amore di amare profondamente incondizionalmente l'arcangelo raffaele viene riportato in evidenza anche sicuramente da questa carta ci invita al radicamento guarire armonizzare la mente e il corpo quindi guarire armonizzare la mente il corpo e il nostro terzo chakra il terzo il quarto chakra devono lavorare in sinergia il 34 34 343 43 nuovamente vengono portati in evidenza come numeri di fondamentale importanza il 41 come palindromo del 14 come 3 14 esodo 3 14 la frequenza della sinergia che supporta la nostra capacità di ricevere e di accettare tutto ciò che non è così ovvio tutto ciò che non è mai stato visto prima combinazioni e unioni che risultano in una nuova funzionalità funzionalità unioni e combinazioni che danno come risultante nuovi più evoluti propulsivi migliorati migliorate ottimizzate funzionalità da un punto di vista energetico e di coscienza nel lavoro nel pensiero nel relazionarsi nell'amare nell'essere e ci ricorda di abbracciare tutto quello che è fuori dalla nostra zona di confort che non è familiare che è il mistero che abbracciare quello che è sconosciuto io che so che di non sapere la sete della conoscenza che muove avanti l'umanità come bisogno sano di nutrimento del cuore della verità e nuove vie per eccitanti co-creazioni di orbitali energetici intorno al nostro nucleo positivo che possano dare nascita a nuove realtà anche biogeometricamente parlando e da un punto di vista di sacre strutture che sia funzionale alle strutture gravitazionali più grandi dell'universo che sia funzionale alla struttura di un piano superiore divino ad un piano perfetto di interazioni e di intrecci e di interlacciamenti e interconnessioni una rete che funziona come un alveare l'energia generale è il tempo dell'anima la frequenza del tempo dell'anima tempo anche soul time ci permette ci chiede di permetterci di ricevere di accogliere la possibilità di una nuova realtà che emerge nel nostro campo di visibilità e che se non è la visibilità fisica è quella data dall'occhio della nostra coscienza della nostra mente del perfetto allineamento mente cuore che è anche il perfetto allineamento d'inconscio e cosciente su tutti i campi risuona l'allineamento armonico una nuova realtà a permettere a una nuova realtà di emergere che abbraccia il concetto che mentre il nostro corpo la nostra vita i nostri limiti fisici tra virgolette sono connotati da quest'idea di tempo e di mortalità anche l'anima è senza tempo è senza dimensione è trascesa è senza limiti è infinita e questo è per l'umanità il tempo di questa riconoscenza per gaia che sottende a questa che sottende questa energia anche col 28 che diventa 1 e 5 insieme della dinamica e del campo quantico e della metafisica dinamica cromo dinamica del cambiamento la frequenza della terra che ci ricorda che siamo infinitamente connessi gli uni agli altri così come lo siamo alla nostra grande madre e all'universo che ci ha dato la vita la frequenza dal quale siamo germogliati in questi noi semi stellari nati dal processo della fusione stellare anche noi questo tempo di ricordo anche della madre il 40 numero della madre per eccellenza sull'energia generale la resistenza non resistere al cambiamento per la resistenza data dalla paura perché questo è il tempo di è il tempo per noi di fruire di questi superpoteri di cui siamo dotati di farli fiorire nell'idea della pace come espresso prima che è la frequenza questa realtà che ci permette di abbracciare nuovi campi di viaggiare tra le dimensioni di abbracciare una nuova dimensione che è questa realtà che emerge e che emerge grazie alla nostra al nostra capacità di essere luce perché la luce è anche appunto legata alla visione chiudiamo questo messaggio e qui abbiamo anche l'idea degli estremi portare pace tra gli estremi di nuovo il 34 il 28 il 34 che si ripetono il 43 che si ripete il 33 che si ripete si ripete nel miracolo della fioritura questa è la profezia il miracolo della fioritura vedere oltre la situazione contingente la situazione corrente proiettarsi oltre il campo visibilità del presente ma non precedendo precorrendo i tempi in senso pioneristico sì ma portando il presente nel futuro in senso dimensionale e quindi mantenendo il radicamento e quindi agendo nel presente con la proiezione e la visione proiettata del futuro che diventa consistente e che diventa reale dimensionale l'energia generale anche in quest'altro mazzo sotto il 34 il messaggio con questa carta con cui chiudo la trasmissione è isolo per creare un isolamento energetico attorno a una persona che difenda da energie negative non naturali provocate per lo più da ambienti o parti di ambienti disarmonici e quindi cominciamo a isolare la nostra coscienza dato ogni disarmonia e creiamo intorno a noi questa isola che non c'è viviamo su questa isola che è facciamo esserci che così è e con questo messaggio vi auguro una buona giornata ciao